Protestano gli allevatori e gli imprenditori agricoli di Mistretta con una manifestazione pubblica che si è svolta ieri per le vie della cittadina nebroidea. Al centro della protesta l'ultimo bando relativo all'aggiudicazione di altri lotti di terreno di proprietà comunale che sarà pubblicato il prossimo 23 dicembre. Chiediamo semplicemente il riconoscimento assoluto del diritto di precedente. Nel senso, noi l'abbiamo detto anche al commissario prefettizio, il dottore Oddo, con cui siamo stati in riunione fino a poco fa. Noi siamo per lo più d'accordo con il bando. Abbiamo fatto un plauso anche al lavoro della Commissione. Tuttavia riteniamo che il territorio di Mistretta debba essere garantito rispetto a eventuali speculatori esterni che potrebbero venire qui a Mistretta per speculare sui fondi rustici. Quindi quello che chiediamo è un diritto di precedenza per il cittadino di Mistretta con il corrispondente onere di versare eventualmente l'offerta maggiore, nel caso in cui dovesse esserci un'offerta maggiore. Ad oggi il bando prevede un diritto di precedenza, diciamolo, tuttavia lo prevede in caso di parità di offerte. Non vengono riconosciuti gli usi civici, che è un diritto che esiste, grava su quasi tutto il territorio di Mistretta e come tale noi chiediamo che sia riconosciuto in assoluto ai cittadini di Mistretta. Noi allevatori ci stiamo opponendo naturalmente a dei punti che riguardano praticamente l'indirizzo di preferenza nei confronti del Mistretta, che sia esso più giovane o meno giovane e che abbia soprattutto l'interesse di continuare quell'antico mestiere che era l'allevatore. Augurandoci quindi che questa prima battuta di discussione che è avvenuta possa aprire quel bellissimo tavolo di discussione dove un ente garante che è lo Stato e che viene rappresentato in questo momento dalla commissione prefettizia che è all'interno del comune di Mistretta possa ascoltare chi è del territorio e chi magari ha più contezza nei confronti di quello là di cui si sta appunto mettendo in gioco per il futuro.